Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con un nuovo cazzo di video E oggi vi dirò quale sono le frasi da non dire mai al primo appuntamento con una bella figa Qual è lo sport preferito delle hockey? Ok, se metto la panna sui vetri, si appanna Ma che cazzo stai a dire? Ottico denuncia una rapina, era tutta una messa in scena Ho chiesto l'amicizia a un neturbino, me l'ha rifiutata Cosa fa una poca quando ti fissa? Ti focalizza Ma che cazzo dici amica? Quando hai un problema, rivolgiti a un palazzo, ha sempre un piano Come fanno a calmare un vegetariano? Lo sedano Alla prossima, dai! Alla prossima! W ambitious gente Abbano tine Abbano tine Opaani, opaani